Questi giorni bisogna fare molta attenzione a questi cambiamenti di trasferitura. Divertente, ma l'influenza è una cosa seria. Quando stargottisci, copri il naso e bocca con un fazzoletto e prima di gettarlo, chiudilo bene. Se ti capita all'improvviso, fai così. Lavati spesso e bene le mani e per la vaccinazione chiedi al tuo medico. Perché come dice Totò, è la somma che fa autotato. Pochi gesti, più la vaccinazione, uguale salute. Salute! Salute!